ragazzi buongiorno a tutti mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis con un semplice click su iscriviti ma di cosa ragioni bisogna tenerli in vita artificiosamente sia Milan che Juventus lo abbiamo capito di volete tenere in vita ma tanto sono scarsi stanno facendo io ieri ho visto delle robe allucinanti quello è fai pugile che fanno finta di nulla gli da un cazzotto quegli quell'altro poi cioè ragazzi in Milan è una roba parliamo un po parliamo un po dei signori del Milan che 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 si permettono anche di parlare dell'Inter allora io 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 posso tranquillamente dire che ma c'è voglio dire la televisione ce l'abbiamo tutti stanno facendo di tutto per tenere a galla sia la Juventus che il Milan perché sono due società questa è una mia idea eh ci mancherebbe io non ho la sfida di cristallo e nella verità in tasca questa è una mia idea hanno speso tanto il calcio italiano sappiamo tutti che si basa tantissimo sulla mole dei tifosi e Juve e Milan hanno tantissimi tifosi come ce l'ha l'Inter e quindi per tenere un campionato eh diciamo competitivo a livello proprio eh di seguito stanno facendo di tutto per tenerli in vita soprattutto il Milan non voglio offendere nessuno ma il Milan è una squadra imbarazzante stanno rimandando l'esonero di un allenatore che ormai non ci capisce più nulla perché il derby è una partita a parte lo sappiamo tutti il derby abbiamo perso io vorrei ricordare comunque ai signori del Milan che nell'ultimo scudetto hanno vinto con diciannove rigori diciannove rigori l'anno dopo sempre ai signori del Milan hanno dato ventidue rigori in più contro il Lecce vincevano due a zero questi polli si fecero recuperare due a due il Lecce se vi ricordate segna il tre a due l'arbitro va a scovare un fallo inesistente a centro campo e viene annullato il tre a due al Lecce cioè è questo il calcio italiano ragazzi questo sempre i signori del Milan prima della sosta due rigori e ieri è successo veramente l'imponderabile ieri ieri ragazzi da vomito ieri a San Siro una roba cioè qui va cioè qualcuno deve pagare devono essere squalificati ma cosa guardano al bar i filmini porno cosa fanno al bar fuori gioco udinese rigori negati abbiamo cioè ieri una partita secondo me cioè il campo dice quella è una partita falsata a trecentosessanta gradi vogliamo prendere provvedimenti cioè così cioè quello voglio dire io così è troppo visibile la cosa almeno di Dio buono fatele per bene se le volete fare cioè ho capito devono rimanere in piedi anche se sono scarsi perché a mio avviso nonostante l'età media sia alta nonostante non ci siano stati investimenti l'Inter in campionato rimane la più forte e apro una parentesi il male dell'Inter lo fai te sei te che illudi i tifosi facendo passare per fuori l'asse dei giocatori che ormai hanno dato tutto e facendo e dicendo che è una campagna acquisti ottima quella dell'Inter sei te il primo che fai male all'Inter tutto a poster che ti va tutto bene qualsiasi cosa faccia l'Inter sei te sono i tifosi come te individentemente si fai allo stadio oppure no sono i tifosi come te che fanno male all'Inter perché non sono obiettivi e non sono reali te vivi in fantasilandia perché sei l'unico ancora a non capire non è stato fatto mercato quest'anno in questa squadra perché gli unici investimenti che sono stati fatti dell'Inter sono stati per fare a crescere il valore della rosa non per far performare di più la squadra sei te uno dei mali dell'Inter su YouTube è proprio il tuo canale su YouTube che non ci dovrebbe essere che sei tutto a poster che va tutto bene te saresti primo da 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 far uscire su YouTube puoi andare allo stadio quanto ti pare perché non sei obiettivo e non sei sincero veniamo alla partita di stasera che eh aspettando il risultato nel Napoli sperando che Parrucca inciampi perché sennò Parrucca poi dopo pensa davvero di vincere il campionato vi Parrucca deve inciampare contro l'Empoli può inciampare contro l'Empoli tra l'altro io avevo parlato di due ragazzi giovani Bernabè del Parma se vi ricordate e Nico Paz quando giuse ma chi è Nico Paz l'hai visto chi è Nico Paz anche se molto probabilmente il reale i ragazzi del Como molto probabilmente il reale se lo riprenderà veniamo alla partita con la Roma perché ora se no mi cazzo alla fine iscriviamoci al canale ed attiviamo la campanellina bisogna arrivare a ventimila iscritti proprio per contrastare tutto a poster che ti vogliono far passare i giocatori presi così a zero come te fuori classe non è così sei te il male dell'Inter sei te che dovresti uscire da YouTube perché bisogna essere coerenti bisogna essere obiettivi tanto è inutile che tu voglia far passare tutto a poster il capo parla chiaro ciccio Juric Juric è un Gasperini difensivo come dicevamo con Michele che saluto utilizza un pressing tutto campo ad uomo quindi questo cosa vuol dire questo cosa ci costringe a fare ci costringe ad azzeccare tutti i passaggi e a farli correre a vuoto perché perché così facendo eh devi assolutissimamente cercare di farli sbagliare quindi prendo due giocatori Mkhitaryan e Cialanoglu dovranno fare la partita perfetta stasera soprattutto loro due quindi ripeto aspettando Parrucca che gioca contro l'Empoli e servono tre punti ormai ragazzi cioè io non ti dico non si può più sbagliare incominciatori campionato però occhio occhio rimaniamo lassù rimaniamo lassù bisogna andare a Roma campo difficile eh sicuramente la Roma di Juric è una squadra un po' più quadrata una squadra che comunque il campo sa meglio quello che deve fare ma noi bisogna andare lì e vincere perché fondamentalmente ripeto nonostante l'età media nonostante i cinesi che è scappato che non aveva un euro nonostante non sia stato fatto mercato per me nel campionato italiano nella serie A siamo ancora i più forti ciao Inter Grazie mille